I 74 punti conquistati nel 2012 sono valsi alla San Benettese appena un paio di settimane in testa alla classifica. La rincorsa alla vetta per i ragazzi di palladini inizia con la vittoria per 3-1 alla Riviera sul San Nicolò al termine di una gara vivace e divertente in cui gli apruzzesi hanno cercato di mettere in difficoltà la Samba. Il tecnico rosso-blu deve rinunciare a Marini squalificato ma ritrova Scartozzi a rientro dopo lo stop imposto alla giustizia sportiva. In tribuna Gibo esterno difensivo in prestito all'Atalanta arrivato ieri. Palladini non cambia il collaudato 4-3-3 con Barbetta tra i pali, Camigli e Carminucci esterni di difesa con Aquino e Gianni centrali. Traini, Carpani e Scartozzi in mediana con Napolano, Pazzi e Sciva in attacco. Cifaldi nel riscaldamento perde Ragazzu al suo posto nel suo 4-4-2 schiera Chicco. La gara inizia con il prevedibile predominio della San Benedettese che si affaccia in avanti in un paio di occasioni ma Palladini dimostra di aver avuto le proprie ragioni in settimana quando predicava attenzione nei confronti di un San Nicolò galvanizzato alla vittoria di Termoli. Un primo avviso arriva all'ottavo sugli sviluppi di un calcio di punizione con Ginata in area rosso-blu di Gabriele che finisce fuori di poco. La Samba sembra non sentire l'allarme e tre minuti più tardi subisce la rete degli apruzzesi sul nuovo calcio a fermo da sinistra. E' l'undicesimo, Gabriele è ancora libero di saltare da solo in area di rigore e di schiacciare i testa alle spalle di Barbetta. La Samba reagisce subito e dopo 90 secondi trova il pari con una punizione che si conquista e va a calciare il solito Napolano che dalla lunetta infila Merletti con il decisivo contributo di un giocatore in barriera. La Samba alza il ritmo e sale l'incitamento del pubblico rosso-blu. Al diciannovesimo Napolano prova la magia dalla bandierina disegnando la traiettoria a rientrare che scavalca Merletti ma trova Gabriele sulla linea ad allontanare. Il vantaggio rosso-blu però non tarda ad arrivare. È il ventitreesimo Napolano batte corto un corner da destra per Scartossi che dal vertice dell'area di rigore fa partire un cross morbido per Traini che stacca più in alto di tutti e di testa gira nell'angolino basso il 2-1. La Samba a questo punto torna a fare accademia senza affondare i colpi. Il San Nicolò cerca di pungere in contropiede ma non riesce mai ad impegnare Barbetta. All'intervallo Palladini chiede ai suoi di mettere in cassaforte i tre punti. Ci fa di prova a far riversare la propria squadra nella metà campo rosso-blu ma la Samba chiude la partita proprio in apertura di secondo tempo. Al quarantasettesimo fa le prove generali con Napolano che confezione un assist col contagiri per Sciva. Il destro potente in diagonale sfiora il palo alla destra di Merletti. È il preludio al 3-1 che arriva pochi secondi più tardi. Traini recupera una palla sulla tre quarti. Vede il taglio di Carpani che sull'uscita del portiere Terramani tocca quel tanto che basta per mettere il pallone in rete e chiudere il match. La Samba torna a cercare le giocate d'effetto. Il San Nicolò prova a riorganizzarsi. Al cinquantottesimo Chico potrebbe riaprire la partita quando riesce a liberarsi in area di Aquino ma Barbetta in uscita gli sbarra la porta. Palladini richiama pazzi per Puglia al sessantacinquesimo. Gli avruzzesi che restano in dieci al settantaduesimo per l'espulsione per doppia munizione di Antenucci provano ad attaccare ancora ma la manovra si fa sempre meno ordinata e la retroguardia rosso-blu vigila senza problemi limitandosi poi a qualche scorrivanda in solitaria dei propri giocatori che mette comunque sempre in affanno i difensori bianco-azzurri. La partita si va via via spegnendo. Palladini concede a Scartozzi e Carpani sostituiti da Onesti e Tracchi agli applausi del Riviera. A emblema del motivato entusiasmo che suscita la Samba l'ultima azione della gara. In pieno recupero con l'assist delizioso di Napolano per Sciva che scarica però sull'esterno della rete. Poi finisce con la Samba sotto la curva che mentre i giocatori vanno sotto la doccia attende tre dipidante notizie da Marino ma neanche stavolta nella calza della Befana la Samba riesce a trovare le sorprese tanto attese.